Il giornalismo investigativo ha bisogno fisico di dati, di informazioni certe. Non può esistere un giornalismo investigativo basato su sciocchezze. Evidentemente ci sono i documenti giudiziari, ci sono le ricerche che possono essere fatte sul campo a tutti i livelli. E' sicuramente un giornalismo che ha bisogno di verità e ci sono stati anche dei casi, non soltanto in Italia, anche di inchieste che poi sono inciampate su questioni magari di dettaglio ma in esattezze che hanno pesato. Ecco, oggi in rete noi abbiamo una montagna di luoghi nei quali poter cominciare a fare le nostre verifiche che poi proseguono anche nei luoghi fisici, devono ovviamente svilupparsi su diversi piani. Il problema è che molte volte non siamo sufficientemente attrezzati a poter fare tutto questo. Non siamo attrezzati perché non abbiamo questo tipo di abitudine. Ecco, ci sono molti soggetti, fact checkers, che si occupano di queste cose anche a livello accademico con i quali si possono stringere rapporti. E' un mondo interessante, ecco. Quello che non si può credere è che il fact checking possa cambiare la vita politica di un paese. Ecco, questo no. Chi ha delle opinioni strutturate da tempo per ragioni che sono legate alla sua storia, a punti di vista, all'approvvigionamento mediatico avvenuto perché segue magari sempre e soltanto un'unica fonte. Ecco, quel soggetto lì non cambierà idea se qualcuno gli dice la verifica dei fatti porta altrove. Però sicuramente una buona inchiesta è un'inchiesta che ti fa aprire gli occhi. Deve essere capace di raggiungere non soltanto quelli che erano già disponibili a credere a quella cosa ma anche quelli che in qualche modo hanno un po' la mente aperta e magari non erano mai stati raggiunti da quelle informazioni e potrebbero prendere coscienza, essere aiutati in questo. Ci sono delle esperienze interessanti, in America ce ne sono di importanti, dove il pubblico viene sollecitato da gruppi di giornalisti investigativi a proporre a lui le inchieste che gli interessano e anche a dare una disponibilità finanziaria a sostegno della realizzazione di questa inchiesta. Sono delle bellissime esperienze che possono essere riprodotte ovunque. Grazie. 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 Grazie.